Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Poche ore prima del Pokémon Direct di mercoledì, io e Luke abbiamo deciso di fare una cosa particolare. Abbiamo cioè registrato una clip a testa di pochi minuti in cui siamo andati ad esprimere quelle che sarebbero state le nostre aspettative o comunque i nostri desideri per quanto riguarda i futuri giochi Pokémon, che ormai non sono più futuro, sono presente, lo sappiamo, sono Pokémon Sword e Pokémon Shield. E dunque in questo video vi mostrerò queste clip cosicché possiate vedere le opinioni che avevamo io e Luke prima della Direct e vedere tutti insieme se alla fine queste opinioni si sono rivelate esatte oppure errate. Vi preciso che ovviamente questi video sono stati registrati prima della Direct, di conseguenza non sapevamo quello che avrebbero annunciato e quindi vi giuro che se qualcuno mi rompe le balle nei commenti dopo che l'ho detto e inizio il video lo banno di prepotenza. Detto ciò io vi invito anche, finito questo video, a passare dalla reaction che abbiamo fatto sul canale di Luke al trailer perché così potrete comprendere poi, una volta conosciute le nostre aspettative, quali sono state le nostre reaction effettive ma direi di non perderci in ulteriori chiacchiere e vi lascio al video. Buona visione! Siamo arrivati quindi a questa ottava generazione e ci sono sicuramente un sacco di cose che io vorrei vedere in questi importantissimi giochi per Nintendo Switch a partire insomma dai titoli di questi giochi, insomma separato molto di Inghilterra, di cose del genere quindi insomma mi piacerebbe effettivamente vedere dei giochi con dei titoli legati appunto all'ambiente inglese vediamo un po' se Game Freak mi avrà accontentato o ascoltato, insomma sarà difficile come cosa quindi una legione dei titoli magari sono basati sull'Inghilterra, perché no? Sarebbe veramente un ottimo modo per aprire questa generazione, questa ottava e importante generazione per quanto riguarda la regione mi piacerebbe comunque sia insomma che fosse non completamente open world perché penso che insomma Game Freak non farà subito questa cosa però insomma una regione semi open world quindi con magari anche la possibilità si spera di visitare altre regioni non dico un gioco con tutte le regioni in quanto mi sembra un po' utopia in questo momento una cosa un po' irrealizzabile, un sogno nel cassetto più che altro quindi immagino che Game Freak insomma ci farà aspettare un po' per questa feature ovviamente essendo anche una nuova generazione quindi con una nuova coppia di giochi Pokémon mi immagino ragazzi di vedere tantissimi nuovi Pokémon totalmente nuovi e diversi da quelli visti negli scorsi anni quindi me ne aspetto almeno 100 nuovi Pokémon non mi aspetto mega evoluzioni nuove, forma nuove, comunque sia forme alternative almeno per il momento ma mi piacerebbe già vedere ragazzi, sarei molto molto contento di ammirare almeno 100 nuovi mostriciattoli in questa nuova regione Pokémon saranno molto importanti anche gli starter Pokémon da sempre importantissimi per un gioco Pokémon che fanno praticamente cominciare l'avventura al giocatore e io mi voglio buttare su una previsione ragazzi su due start ovvero lo starter d'acqua sarà un delfino mentre lo starter d'erba sarà un elefante così ragazzi vediamo un po' se ci prenderò oppure Game Freak mi farà fare una pessima figura davanti al mondo Game Freak mi raccomando poi possiamo anche parlare ragazzi di alcune feature che magari insomma riprenderanno da Let's Go per esempio spero che ci siano proprio gli sprite dei Pokémon nell'overworld e non insomma gli incontri casuali in erba alta veramente una feature che voglio rivedere insomma messa da Game Freak anche nell'ottava generazione la grafica invece secondo me sarà simile a quella di Let's Go magari un po' più avanzata, un po' modificata ma a me quella di Let's Go già non dispiaceva più di tanto cioè non era bellissima, era migliorabile però ragazzi rispetto alle vecchie grafiche secondo me ci poteva stare quindi mi immagino una grafica di Let's Go un po' potenziata e un po' migliorata per questa nuova generazione nei giochi mi aspetto anche dei personaggi un po' più maturi, un po' più sviluppati rispetto insomma alle ultime uscite di Game Freak in cui alcune cose hanno abbastanza lasciato a desiderare ragazzi già da l'autosaluta luna e poi in Let's Go alcune cose erano sinceramente rivedibili quindi dei personaggi buoni ovviamente ragazzi una trama che si possa vedere che possa essere definita trama magari in stile quinta generazione dove la trama era il vero punto di forza di quei giochi e magari finalmente insomma lasciare un po' perdere i riferimenti con il passato quindi possibilmente accanto e insomma focalizzarsi sul futuro quindi non fare tanto riferimenti al passato che si posso tranquillamente fare ma non esagerando quindi guardiamo al futuro senza troppo ancora insomma pensare al passato e insomma all'epoca che è stata ragazzi del mondo Pokémon detto questo penso di aver chiarito praticamente tutto quello che volevo dire in questo video che vi ricordo uscirà sul canale del Creepy quindi mi raccomando supportatelo l'ultima cosa su cui posso sbilanciarmi è che secondo me il trailer di lancio quindi quello che abbiamo visto al Pokémon Direct si spera sarà un trailer veramente molto intenso ovviamente non con tantissime cose però dove Game Freak, Pokémon Company e compagnia bella fareanno veramente grossa dopo gli ultimi fallimenti insomma degli anni recenti praticamente quindi aspetto un trailer veramente intenso emozionante che ci farà finalmente insomma ritornare in pace con questo brand con questo penso che le mie episodi siano finite ragazzi vedremo poi in futuro chi ne ha azzeccati di più tra me e Creepy ma con lì insomma sarà una cosa da vedere con il tempo quindi per oggi ragazzi Rocket è tutto ringrazio Joe per avermi spiegato su questo video e nel suo canale quindi un saluto e al prossimo video ciao ragazzi è quasi l'una siamo quasi in dirittura d'arrivo per quanto riguarda il Pokémon Direct voi avrete già visto tutto io in questo momento no e oggi come ha fatto Luke prima di me andrò a commentare quelle che sono le mie aspettative per quanto riguarda questo gioco e direi di partire principalmente da un aspetto che mi ha triggerato di più ultimamente che è quello grafico certo la grafica di Let's Go è bella certo 1080p 60fps da questo punto di vista bisogna proseguire in questo senso ma a mio avviso la grafica di Let's Go come ben sapete è troppo statica troppo legata alle generazioni precedenti e deve assolutamente aprirsi per un mondo più in open world non sto dicendo di fare un mondo completamente aperto sto dicendo di ritornare a queste cinematiche perlomeno che vi sto mettendo adesso in editing che erano di Pokémon Ultra Sole e Ultra Luna e che a mio avviso rendevano l'esperienza di gioco molto più godibile rispetto a quella molto 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 statica che abbiamo avuto in Pokémon Let's Go legata a questa miglioria che pretendo nel prossimo gioco Pokémon questa non è una mia speranza ma è una mia richiesta proprio precisa un'altra cosa che è legata a questa vi dicevo è il fatto dei Pokémon nell'overworld mettere i Pokémon nell'overworld in Let's Go è stata una scelta buona a metà perché inserirli in un'ambientazione così chiusa è stato come mettere un elefante in una gioielleria in sostanza uno spreco sono fiducioso del fatto che unendo le due feature che vi ho detto quindi i Pokémon nell'overworld visibili e un mondo più aperto l'esperienza di gioco sarà molto godibile e queste sono due cose che io pretendo dal gioco Pokémon mi sembra poi scontato pretendere da quella che secondo me sarà un'ottava generazione voi lo saprete già probabilmente io non lo saprò continuerò a dirlo questa cosa è molto Inception pretendo dunque un buon numero di Pokémon non mi fraintendete ovviamente pretendo un buon numero non troppi Pokémon preferisco 70 Pokémon nuovi ma 70 Pokémon che abbiano un senso piuttosto che farne 150 come è successo in Pokémon nero e bianco e scopiazzarli da concept precedenti insomma un buon numero di Pokémon ma soprattutto Pokémon di qualità che è una cosa per cui tutto sommato visto l'andazzo delle ultime generazioni non penso sia il caso di lamentarsi però a mio avviso è importante proseguire sulla strada di sesta e settima generazione Pokémon piuttosto più brutti ad un primo acchito nel design ma che abbiano senso e che non siano semplicemente riciclaggi di concept vecchi solo per fare un po' i nostalgici le ultime tre cose che vi voglio dire sono tre cose molto più semplici in realtà vorrei vedere innanzitutto sfruttata la funzionalità dei Joy-Con e della Poké Ball Plus cioè la possibilità di avere la cattura interattiva magari con un sistema ibrido che permetta di coniugare questa features di Pokémon Let's Go con le altre feature che abbiamo visto in tutti gli altri Pokémon ossia l'indebolimento del Pokémon e la conseguente cattura e secondo me è una di quelle cose che vanno salvate dall'esperienza Let's Go la penultima cosa invece riguarda la trama la trama che secondo me deve tornare perlomeno a quella della sesta generazione cioè una trama interpretabile anche a un livello più profondo rispetto al solito la trama di settima generazione per cercare di essere complicata da un punto di vista di lore è andata a perdersi invece secondo me quello a cui si deve puntare è una trama un po' più profonda di tematica come si è visto soprattutto in nero e bianco ma anche con Pokémon X e Y e con la storia di Azeta di Elisio e chi più ne ha più ne metta questa credo che sia una cosa molto plausibile del gioco che potrebbe accadere veramente sono molto fiducioso come del resto tendo in realtà a essere fiducioso di tutte le features che abbiamo visto fino adesso forse un po' meno di quella che vi sto per dire che è l'ultima che mi piacerebbe e che sarebbe ora che facessero ossia un competitivo più facile da accedere il competitive nel mondo Pokémon è sempre stato elitario sempre nascosto all'interno delle meccaniche del gioco mai veramente esplicitato ecco credo che Game Freak dovrebbe svegliarsi creare una sorta di sistema competitivo che permetta anche a un giocatore casual di affacciarsi subito con una realtà che invece è sempre rimasta implicita all'interno di un gioco Pokémon detto ciò io credo di aver terminato con quello che volevo dire ci sarebbero altre cose ovviamente ma sono o di secondaria importanza o totalmente irrealizzabili sono molto fiducioso per questo nuovo gioco Pokémon e soprattutto sono fiducioso che quello che ho detto possa diventare realtà detto ciò io per l'appunto ho concluso quello che volevo dire e dunque passiamo alla conclusione di questo video bene ragazzi siamo arrivati alla conclusione del video avete visto quelle che erano le nostre opinioni sono state molto 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 simili tra di loro io e Luke non ci eravamo confrontati sull'argomento è stata una cosa totalmente spontanea io vi invito a lasciare un mi piace se questo video vi è piaciuto un commento e un'iscrizione al canale se volete continuare a seguire i video mi raccomando passate anche dei social per rimanere sempre aggiornati sull'attività al di fuori del canale e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed dato ciò ragazzi noi ci becchiamo in un prossimo video un prossimo video